Buongiorno a tutti, siamo qui al Museo Messina di Milano il 20 novembre 2019 alla mostra di Francesca Romano, la nostra grande artista che parla della violenza sui bambini e la rappresenta a modo suo. Francesca, raccontaci la tua opera e che cosa significa. Sono i bambini, i miei bambini, che parlano direttamente per una violenza subita. Quindi ogni scultura racconta una storia. Una storia che ovviamente è una storia di molti giorni. È una storia tristissima che purtroppo vediamo tutti i giorni e che purtroppo non se ne parla. Ma noi siamo qui per parlarne proprio con Nadia Ruscialini e Antonella Mantovani che hanno promosso insieme ad altre associazioni tra cui la nostra, Ia Cioi Gomeni, Beresi Vergie, Castello 13 e tanti altri, proprio questa giornata. Nadia, raccontaci qual è la voce? La voce è quella di, intanto, dei bambini, quelli che vediamo noi in ospedale, nei nostri studi e quindi dalla sofferenza, come dice lei, dalla violenza, poi si arriva alla rinascita e alla dita nuova, di gioia. Siamo delle voci civiche di cittadini che ognuno si occupa di qualcosa in particolare. C'è l'arte, c'è la società civile, ci sono le associazioni, ci sono poi piccole imprese che si sono messe tutti insieme per cercare di dar voce appunto a chi non ha voce o a chi non ha modo di smegliere la propria voce, che sono appunto le valline e le visibili in questo colloquio armonico e di liberi sinergia. Antonella, l'arte, la condivisione, raccontaci perché? La condivisione perché occupandomi io, sono un connettore tra le arti e la società civile, e ci tengo a ribadirlo, perché questa credo sia la missione dell'arte. Gli artisti hanno una sensibilità tale per cui non solo vedono in primis quello che sta accadendo, sono portatori sani di futuro e sono quelli che riescono a parlare con molta delicatezza nelle pieghe del non detto di argomenti che arrivano a tutte le persone, secondo la soggettiva predisposizione ad accogliere il messaggio, con dei piccoli e grandi, con la stessa forza e sensibilità. Assolutamente. Ritengo che questa mostra non poteva non essere messa in un museo come questo, che sembra la sua destinazione naturale, e ringrazio per l'ospitalità. E l'altra cosa, penso che questi 12 relatori muti, come li chiamo io, adesso 14, si aggiungono le nostre voci, quindi nel silenzio si stiamo azzenti. Sono d'accordo. Così come l'arte unisce questo momento, un artista aiuta e sostiene la violenza, anzi l'antiviolenza, attraverso la sua arte. Raccontaci chi è Cremisi Studio. Cremisi Studio è un progetto di accessori moda, forse, e tutto è focalizzato sulle donne. Noi siamo qua, non solo perché comunque sosteniamo le donne, ma anche perché le donne sostengono i bambini, e quindi pensiamo che sia tutto comunque un cerchio che va finendo sempre al solito punto, insomma, è un po' quello di sostenere. Noi, le nostre borse, appunto, sono delle borsi che hanno questa come chiave di lettura, quella proprio di essere un nuovo modo di interpretare la moda, quindi, con gli associati, provare per credere le nostre borse. Assolutamente, le nostre borse. E lasciamo per ultimo, ma ormai per ultimo, Walter, che racconta la rinascita consapevole. Beh, noi siamo qua come associazione, Serena e Dio, come associazione io scelgo me, che è nata proprio per sostenere le vittime di violenza e abuso psicologico e fisico, ed è volta soprattutto alla parte della rinascita post-traumatica, quindi noi, a volte anche con l'aiuto, anche con l'aiuto di tecnici, magari in casi un pochino più difficili, diamo proprio speranza alle persone che hanno subito questo abuso, questa violenza psicologica, in modo che possano avere la speranza di ritornare a vivere e riappropriarsi della propria vita e della propria dignità. Assolutamente d'accordo. Scusa, mi sirena, vorrei raggiungere che questa è la prima di una serie di eventi, di un percorso che si chiama Non si può non vedere, e che vedrà tra i diversi eventi anche altre due mostre, una in fabbrica del valore, tanto a me non capita sulla violenza psicologica, una mostra fotografica a cura di diverse energie, e un'altra mostra che si chiama Danno, sempre promossa da Castello 13 delle associazioni che sono qua, il danno sull'abuso sui minori. Noi li aspettiamo. Se posso aggiungere Serena, va proprio a corollare di quella che ha appena fatto l'annasso Antinadia, è che il danno va a finire in una sacristia, un luogo anche questo molto particolare, di una chiesa di Milano, per cui è particolarmente interessante l'apertura di alcune persone, di ascoltare un tema così forte. In quell'occasione, il 29 di novembre, in quell'occasione faremo il nostro primo anno dell'associazione, per cui aspettiamo tutti coloro che ci ascoltano. Io chiederei a tutti quanti di aprirsi al ventaglio, perché l'applauso va ai bambini. Grazie a tutti e grazie a tutti.